ciao a tutti bentornati nel canale benvenuti in un nuovo video allora questo video è un po strano perché sono praticamente due video di cui non ho le clip complete perché durante la registrazione mi sono dimenticata di riaccendere la videocamera insomma tra una chiacchiera e l'altra e poi con le cose di casa da fare la cena della bambina eccetera allora a volte mi succede che 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 non che non mi ricordo di riaccendere la telecamera va bene allora vi lascio lo stesso a questo video che non sarà parlato non sarà spiegato come faccio per gli altri ma comunque si vede insomma si vedono bene tutti i passaggi e poi l'ho lasciato in velocità normale questa è la velocità con cui cioè non è accelerato il video ecco quindi la velocità è quella reale e vedrete a un certo punto che la vero caia vedrete a un certo punto che sto facendo un fiore e dopo di che passiamo direttamente ad un altro refill che poi guarda caso è sempre la stessa persona quindi sono praticamente un refill uno dietro l'altro e va bene io spero che vi possa interessare vi possa essere utile lo stesso questo video perché non mi va di buttare di sprecare insomma queste riprese e certo non è completo perché manca la la ripresa finale la ripresa del lavoro finito e alcuni passaggi finali ora non mi ricordo neanche troppo bene comunque spero che non vi dispiaccia e vi saluto vi lascio alla musichetta e ci vediamo al prossimo video e un bacio grande e ciao 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 ciao